E aggiungo che l'idea che il soggetto nasca dal tempo storico cristiano è assolutamente vera, nel senso che se noi lo andiamo a trovare, dove nasce il soggetto nella storia della filosofia? Nel soggetto da noi riconoscibile come soggetto, non in Platone, no, in Sant'Agostino. Se uno legge Sant'Agostino non vede, non sente la differenza, mentre se leggi Platone oltre ad inchinarti all'immensità di un pensiero che ha messo al mondo noi tutti, senti che è un pensiero di un padre, se leggi Sant'Agostino senti che è il pensiero di un fratello. Cioè proprio, e che cosa, Sant'Agostino è il soggetto che cerca Dio nella storia dove Dio non c'è e tuttavia c'è come assenza. C'è come assenza, come parola che risuona, ci sono stato, ci sarò, adesso non ci sono, ti basti questa mia parola, cercami nel mondo. E cercando me, che sono Dio, il tuo Dio nel mondo, trovi, trovi te stesso. Trovi te stesso. Veramente la potenza esistenziale della filosofia di Sant'Agostino non ha pari ed è una potenza che è resa possibile dal fatto che c'è un tempo inventato dal cristianesimo, come il tempo della prova, il tempo dell'immanenza in cui c'è anche la trascendenza. Sant'Agostino è davvero il padre della modernità. Non a caso. Non a caso. Lutero era un frate agostiniano. Non a caso noi siamo abituati a pensare alla modernità come messa, come attivata da soggetti agostiniani, cioè protestanti radicali. La potenza del soggetto è una potenza cristiana, indiscutibilmente, di cui presto si può dire che non è più cristiana, ma insomma che nasce col cristianesimo. E il cristianesimo è quello che mette al mondo il soggetto perché mette al mondo il tempo, certo. Perché trasforma il tempo in una prova, che è un'idea che gli antichi non si sarebbero mai sognati di avere. E tu puoi trasformare il tempo in una prova solo se ti inventi che c'è un evento fondativo, liberatorio e una promessa. Che sta a te validare. Di questo non possiamo, da questo punto di vista davvero non possiamo non essere, non dirci cristiani.